Colpi d'obiettivo durante l'incontro di lotta libera tra Joey Cox e Marvin Westenberg. Tanto per cominciare, uno dei competitori finisce a più riprese tra il pubblico. L'arbitro alle prese con il poco cavallerisco Mr. Cox. Marvin Westenberg mette fuori combattimento arbitro e massaggiatore con modi troppo energici e poco, molto poco sportivi.